Accanto alla competenza accademica, all'esegeta cattolico è richiesta anche e soprattutto la fede, ricevuta e condivisa con tutto il popolo credente. L'ha osservato Papa Francesco, ricevendo i partecipanti alla 43esima settimana biblica promossa dall'Associazione Biblica Italiana. Il Papa ha ricordato il Magisterio del Concilio ed ha citato San Giovanni Paolo II quando osservava che per arrivare ad un'interpretazione pienamente valida delle scritture dobbiamo noi stessi essere guidati dallo Spirito Santo e chiedere l'amore che rende capace di comprendere il linguaggio di Dio. Il modello è la Vergine Maria che ci insegna ad accogliere pienamente la parola di Dio non solo attraverso la ricerca intellettuale ma in tutta la nostra vita.